Ben trovati ai nostri telespettatori con un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere. Oggi il nostro nutrizionista ci parlerà di come fare la spesa, quindi consigli per acquistare prodotti di qualità e ovviamente che possano apportare benefici al nostro organismo. Sì, in effetti fare la spesa è un po' il primo passo per seguire un piano alimentare salutare, questo perché il compito del nutrizionista ovviamente non è solo quello di far perdere peso, quindi di pensare al calo ponderale, ma anche di fare un'educazione alimentare, quindi di spingere le persone verso delle scelte alimentari più consapevoli. Ovviamente l'ideale sarebbe un po' riscoprire quelli che sono i produttori, i prodotti a chilometro zero, quindi anche per poterne avvertire la maggiore anche qualità. Però oggi presi un po' dalla fretta, da sempre poco tempo a disposizione, tendiamo sempre ad andare in questi grandi centri, nei grandi supermercati, dove tendenzialmente cerchiamo di trovare un po' di tutto. Però anche nei supermercati, seguendo alcune piccole regole, possiamo comunque fare una buona spesa sana ed equilibrata. Quindi cosa fare? Innanzitutto fare una lista della spesa. Può essere una buona regola fare anche una spesa settimanale, quindi programmare bene o male quello che nell'arco della settimana, a seconda delle abitudini, dei ritmi di lavoro, vogliamo mangiare. Quindi fare una lista della spesa con le relative quantità. Ovviamente questo vale un po' per tutti i prodotti alimentari, tranne per quelli del consumo giornaliero, come può essere il pane, il latte. E fare una spesa a stomaco pieno. Può sembrare una cosa banale, in realtà si è visto che aiuta molto. Questo perché quando andiamo al supermercato da stomaco vuoto, siamo più indotti a mangiare o a scegliere dei prodotti che diciamo in quel momento ci vanno di più o comunque delle cose sempre più ricche di zuccheri. Fare attenzione a quelle che sono le offerte, le promozioni, perché anche in questo caso ci spingono ad acquistare delle grosse quantità di cose che magari non abbiamo realmente bisogno. E poi ovviamente leggere le etichette. Questo non vuol dire limitarsi solo al numero di calorie che sono importanti ma non sono tutto. Quindi valutare anche la quantità di zuccheri, di grassi saturi. Ricordando che bene o male più una lista degli ingredienti di un prodotto è lungo, più quel prodotto sarà meno salutare. E gli ingredienti nell'etichetta sono sempre indicate in ordine di quantità. Quindi da quello più presente a quello meno presente. Leggere l'etichetta vuol dire anche tracciabilità, cioè accertarsi che un prodotto sia effettivamente italiano e non solo per esempio lavorato in Italia. Anche delle cose più pratiche come per esempio la scelta del carrello. Ovviamente se come dicevamo prima vogliamo fare una spesa settimanale andrà bene il carrello. Se invece ci richiamo al supermercato per fare una spesa giornaliera oppure ogni due o tre giorni sarebbe preferibile per esempio il cestino. Questo perché riempendosi prima ci induce a non acquistare cose in più di cui non abbiamo bisogno. Quali sono gli alimenti che dovremmo mettere nella lista nera e quindi non acquistare? Vediamolo al contrario. Cioè quello che dovremmo fare, cosa dobbiamo mettere nel carrello? Sicuramente la frutta e la verdura di stagione. Quindi i cereali integrali che non vuol dire solo pane, pasta, ma anche farro, orzo, grano saraceno, i cereali per la colazione. Ovviamente il pesce dal banco specializzato oppure le carni magre, i legumi. A volte possono essere convenienti anche i surgelati a patto però di non prendere quelli magari già, quei piatti pronti o quindi quelli già conditi, le panature, così come non dovremmo preferire quei piatti già cucinati che troviamo spesso nei supermercati. Quindi scegliere sempre dei prodotti che dobbiamo poi noi lavorare e quindi cucinare a casa. Oltre a questo delle bevande come ovviamente l'acqua, il caffè, magari le tisane e perché no qualche piccolo sfizio come ad esempio il cioccolato, la frutta secca. Grazie dottore per i preziosi consigli. Speriamo di aver fatto cosa gradita anche ai nostri telespettatori che ci seguono assiduamente. L'appuntamento ritorna la prossima settimana, sempre su Cilento Channel.